L'espressione non avrai altri dei fuori di me non rivela un Dio dominatore ma esprime un rapporto di amicizia tra Dio padre e la creatura figlio. Con questa espressione vengono introdotti i comandamenti che sia pure sotto forma di divietto sono la manifestazione di un amore senza limiti per l'uomo in quanto dettati per tutelare la salvezza di ognuno nella liberazione dal peccato. Infatti colui che detta queste parole non si presenta nella prerogativa del Dio potente creatore del cielo e della terra ma come Dio liberatore, salvatore che ama Israele così com'è con la sua miseria e la sua debolezza. Tra Dio e il popolo di Israele si stabilisce un patto di alleanza che non è azzardato chiamare matrimonio. Purtroppo questo matrimonio ha nel corso dei tempi una storia drammatica. Il primo comandamento esprime il concetto di fedeltà insito nel matrimonio io e tu per sempre non vi può essere un altro tra noi due. La rottura di questo patto la scrittura la definisce adulterio. Nel contempo è comprensibile che la trasgressione volontaria della legge che introduce altri interessi o idoli non è semplice colpa o leggerezza ma peccato cioè rottura dell'alleanza con Dio del patto di fedeltà matrimoniale. È adulterio come spesso leggiamo nella sagra scrittura. Tale infedeltà anche se infrange l'alleanza non riesce però ad impedire che la sua infinita misericordia si inchini nuovamente sulle miserie della creatura. Se noi manchiamo di fede egli però rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. È proprio in forza del suo amore e della fedeltà al patto di alleanza che Dio dona il decalogo cioè quelle norme di comportamento perché la creatura cammina nella giustizia nella libertà incontro alla vita. Il decalogo non rappresenta tutta la morale dell'antico testamento riassume in una forma schematica come paletti di confine oltre i quali l'uomo può trovare solo il baratro. Se ancora oggi abbiamo forme di scavitù è perché a Dio si preferiscono gli idoli delle passioni e di conseguenza il decalogo la legge dell'amore non libera da nessuna oppressione morale e sociale. Se si potesse con colpo d'occhio ascoltare il decalogo non uccidere non mentire non rubare non aver cupidigia. Gli inferni dell'est e dell'oest si trasformerebbero in paradiso di libertà. Ora possiamo anche interrogarci ma noi in quale Dio crediamo? Il salmista parlando degli dei straniere si esprime precisando che il vero Dio è nei cieli e opera tutto quello che vuole. Poi indica le relazioni che Dio ha con il suo popolo. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Il Signore si ricorda sempre di noi. Benedice la cassa di Israele, rende feconda la sua azione. Non dobbiamo così. Noi abbiamo un Dio relegato nell'alto dei cieli purtroppo lontano ma un Dio che pur essendo l'inaccessibile fa prossimo all'uomo partecipa alla vita del suo popolo e lo benedice. Il nostro atteggiamento spesso è interessato. Confidiamo più negli idoli che sono beni fugaci e illusori. Sono argento e oro opera delle mani dell'uomo. Abbiamo già accennato in precedenza che il nostro Dio è principalmente Padre e di conseguenza le nostre relazioni con Lui devono essere impostate sulla fiducia e sull'abbandono. Amare Dio in Cristo significa liberarsi dalla schiavitù delle passioni, della vita quotidiana, sul lavoro, nella famiglia, nella scelta responsabile tra il bene e il male. Vivere il primo comandamento significa credere di essere circondati dall'amore di Dio anche quando ci colpisce una malattia, una disgrazia e la stessa morte. Ci si allontana da Dio anche quando si pensa che è valido soltanto quello che noi stessi facciamo quando costruiamo il nostro vitello d'oro, quando impostiamo tutto sulla persona efficiente. Ci facciamo allora un dia a nostra immagine e somiglianza che prese solo quelle che sfondano, che sono baciate da successo. Tali sentimenti sono la peggiore forma di incredulità. Ciò detto non si devono incrociare le braccia nell'indifferenza e apatia, ma considerare che davanti a Dio conta non l'opera, ma l'amore dell'uomo, non la grande e piccola realizzazione, ma l'intenzione e l'amore con cui si compie. Nel legame che si sfrappongono tra Dio e noi possiamo riconoscere che nell'egoismo, nella vanità e nell'insuccesso, tutto ciò che è secondario deve essere messo da parte per dare il pieno valore all'amore di Dio. Grazie a tutti!